Ciao, ti ringrazio per essere qui. Spero che la mia spiegazione sull'epigenetica ti abbia entusiasmato, come è successo la mia famiglia negli ultimi sei anni. Epigenetica significa che l'epi è al di sopra della genetica e si riferisce ai trilioni di segnali che attraversano i trilioni di cellule ogni giorno e in ogni momento. Negli ultimi sei anni abbiamo sviluppato tecnologie per potenziare e migliorare la nostra epigenetica. Una di queste è una semplice scheda, apparentemente semplice. Ci sono però voluti molti anni per svilupparla, perché quello che volevo realizzare era un qualcosa in grado di trasformare le frequenze future, che possono essere negative per il genere umano, in frequenze positive, immettendola in qualsiasi dispositivo del futuro. Questo è il fondamento della nostra tecnologia. Esso ha un NFC. Così la tecnologia ci permette di cambiare le frequenze di qualsiasi cosa produrremo in futuro e di incorporare nuove frequenze e fotoni positivi. È sufficiente toccare il retro del cellulare. Il cellulare si accende e si è collegato al sito di ricarica, che consente poi ai nostri apparecchi di ricaricarsi. Ora ve lo dimostrerò. La ricarica è molto semplice. Una volta che sei andato sul sito, usando la scheda, premi Play. Il raggio fotonico viene generato attraverso la torcia del tuo smartphone. Devi semplicemente illuminare il disco d'oro sulla parte anteriore della scheda. Questo la ricarica. E verranno così ricaricati tutti gli altri dispositivi, perché in ogni prodotto sono state inserite informazioni fotoniche. Io spero che tu possa trovare tutto ciò eccitante, anche perché è davvero unico nel suo genere. La scheda ci permette di migliorare le nostre energie. Di questi tempi siamo circondati da inquinanti invisibili di EMF, come Wi-Fi, il telefonino, eccetera, ma anche da inquinanti elettrici, condotti da tutti i liquidi che beviamo, che si tratti di latte, di acqua, di tè, di caffè, tutti quelli che aumentano l'ORP del liquido. E così noi, quando alla fine li consumiamo, rallentiamo il valore della nostra energia. Questa scheda riduce l'ORP del liquido. E nel fare questo, il liquido acquisisce un sapore più fresco, come dire, più liscio. Il liquido è probabilmente la cosa più liscia, più bella, che tu abbia mai assaggiato. La cosa più importante è quella di idratare le cellule. Così, quando abbiamo il liquido corretto, le cellule vengono idratate. Si parla così di azione acquaporina. Questo è ciò che fa questa scheda. È uno strumento fondamentale. Mettila nella parte superiore della tasca sinistra. Ti godrai la giornata in pieno benessere. Contattaci EpiNutraCellSRL La Spezia Per info epinutracell.gmail.com Telefono 393 914 2000 0187 17 80 859 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.